Nel Wyoming anche la pattuglia della polizia è travolta dalla bufera. E l'elettricità salta a causa del freddo. Batte i denti buona parte del centro nord-ovest degli Stati Uniti. Minnesota, Missouri, Nebraska, Colorado e Oregon, gli altri stati americani più colpiti dal maltempo e dal freddo. In alcune località si sono registrate temperature fino a meno 50 gradi. Uscire per andare al lavoro è quasi un atto di eroismo, bisogna coprirsi bene. Gelo americano da Portland, questo corriere. Una manica lunga, due strati termici, la mia divisa da lavoro, questa giacca, i pantaloni imbottiti e due paia di calzettone. All'aeroporto di Denver centinaia i voli cancellati. La tempesta arriva nel momento peggiore, con decine di milioni di americani pronti a partire in auto, in treno e in aereo per le vacanze di Natale e migliaia di passeggeri degli aerei sono rimasti a terra. Ero pronta a ritardi a lunghi scali, ma sicuramente non avrai mai pensato di dover dormire in aeroporto. Siamo saliti sull'autobus per andare all'aeroporto e a metà strada c'è stato comunicato che il nostro volo era stato cancellato e ora siamo qui ad aspettare. Il presidente americano Joe Biden ha esortato la popolazione a non sottovalutare questa ondata di freddo e a rispettare le istruzioni delle autorità locali. Mentre la tempesta lascia dietro di sé immagini comunque da ricordare, come questi vitelli nella neve, le organizzazioni umanitarie non nascondono la loro preoccupazione per la sorte di senza tetto. In molti stati americani sono stati aperti rifugi di emergenza per il ricovero notturno. Tuttavia ci sono molti homeless che si rifiutano di abbandonare la strada, rischiando di morire di freddo.